Può chiudere la porta per piacere? Così evitiamo che entra il freddo. Prego, accomodatevi. Bene. Innanzitutto volevo dirvi anche a nome di Charles Quilty che siamo onorati di avervi qui. Come forse saprete siete stati scelti tra centinaia di attori per i ruoli principali del suo nuovo film. Altri dieci candidati sosterranno il provino nelle prossime settimane. Mi scusi, se il provino è su una scena in particolare, magari ce l'ha da subito così cominciamo a lavorare. Piacere, io sono Anna Buzzoni. Sì, piacere. E stavo dicendo... Stavo dicendo che il signor Quilty mi ha pregato di farvi sapere che sarà qui tra breve. Purtroppo è rimasto vittima di un banale impedimento. Nel frattempo devo chiedervi di consegnarmi i vostri telefoni cellulari. Prego. Il signor Quilty non ama foto né registrazioni di alcun tipo. È abituato ad avere il controllo di ogni aspetto dei suoi set, compresa la promozione e il marketing. Mi sta scherzando? No. Scusate, ma voi non avete niente da dire? Sono costretta a farvi presente che l'unico modo per sostenere questo provino è attenersi alle indicazioni del signor Quilty. Sì, è un'occasione irripetibile. Devo spiegarvi perché. Hi. Prego. Portanto, sono regalati. Grazie a tutti. Grazie a tutti.